La forte esposizione nei media della cucina ha portato delle distrutture, come in tutte le cose quando vengono probabilmente calcate fin troppo. La cucina senza formazione non si può fare, perché il mio maestro mi diceva che la prima cosa che deve fare un cuoco è regolare calore e capire cosa succede all'interno della pentola e non rendersi conto che il soffitto è bruciato una volta che è nero è un po' troppo tardi. Quindi bisogna prevedere quello che succede all'interno della pentola per poter cucinare. Questo tanto vale una cosa frivola da Masterchef quanto vale per uno spezzatino modello nonna familiare. Il lavoro che te devi imparare pian pianino devi interiorizzare. Nel momento in cui non succede questo farai lo chef un anno, due anni, tre anni, ma poi smetti.